la presentazione è tornata, più forte che mai, paperissima di Antonio Ricci lo show che soddisfa tutti ma proprio tutti dagli enormi più piccini insomma chiunque abbia una bocca per ridere, 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 ridere la prima puntata è stata vista da 4 milioni e mezzo di donne 3 milioni di ometti maschietti, 1 milione e mezzo di bambini 500 mila cani, 300 mila gatti, 800 scimmiette e 21 scoiattoli che al netto degli animali fanno 9 milioni e 11 mila spettatori e compreso chi affretta, 20 milioni e 461 mila di contatti volete mancare proprio voi anche questa settimana ospiti mattacchioni, tantissime sorprese, columbra e cuccarini più paperi che mai e poi e poi e poi e poi bisogna vederla, bisogna vederla, paperissima di Antonio Ricci domani 20 e 40, canale 5